Bella a tutti qui e Treeface, chi vi parla d'oggi vediamo come sbloccare i caricamenti permanenti all'interno di Pokerog infatti una volta utilizzato molta questa applicazione all'interno di Google questa tenderà a bloccarsi in modo quasi illimitato detto questo esiste un piccolo metodo per sgliceare il tutto una volta all'interno del gioco dovremo cliccare F12 ed attivare questa nuova schermata che non è altri che la pagina web che stiamo visualizzando detto questo dovremo cercare questo tipo di elementi e cliccare questa freccettina andando in Application All'interno di Application cerchiamo Storage che non è altri che la memoria e vedremo che questa è del tutto occupata infatti una volta che questa sarà tutta occupata non sarà per noi possibile ricaricare continuamente il gioco per questo motivo dovremo fare Clear Site Data cioè dovremo cancellare i dati di questo sito qui ed effettivamente ci ritroveremo a dover loggare nuovamente nel gioco e vedremo che i caricamenti saranno del tutto fluidi fatto questo basterà quindi loggare all'interno del gioco e divertirvi come sempre io vi ringrazio della visione ci becchiamo alla prossima ciao a tutti